ciao a tutte ragazze della donna qualunque oggi o meglio stasera perché sera e sapete si possono fare video solo quando i bambini stanno col papà o dormono e oggi voglio parlarvi di una maschera maschera della cleanians è questa maschera detox peel off al carbone vegetale che è la classica diciamo maschera nera che negli ultimi anni sta andando tantissimo l'ho pagata appunto 1,99€ come potete vedere e niente io sinceramente non l'ho mai provata quindi la proverò per la prima volta è una maschera che sicuramente è consigliata per le pelli impure perché tende appunto a liberare i pori e loro la chiamano detox adesso verificheremo allora bisogna evitare di metterla sulle sopracciglia bisogna metterla un po come c'è la modella qui dentro insomma nel disegno lasciarla agire circa 15 20 minuti e dopodiché dovrebbe venire via come un foglio e eventuali residui si tolgono con l'acqua tiepida adesso io la metto la lascerò in posa e poi vedremo insieme faremo una piccola recensione di questa maschera eccomi qua sono bellissima dunque la maschera sulla confezione scrive che basta per cinque trattamenti secondo me per cinque applicazioni la consigliano una volta a settimana secondo me almeno per come l'ho messa io tre applicazioni anche perché va stesa con uno strato abbondante ora io l'ho appena messa e come potete vedere ancora umida fa caldissimo oggi ci sono circa 40 gradi quindi sono tutta sodata però appunto l'ho spalmata all'aria condizionata di là e adesso sono venuta a farvela vedere qui nel bagno l'ho spalmata con le dita non avevo un pennello se per caso avete un pennello per stendere le maschere ancora meglio ma io sono una donna qualunque quindi uso le mani e niente adesso la dovrò lasciare in posa 15 20 minuti e poi si dovrebbe staccare diciamo come una pellicola di plastica magari ve ne farò vedere un pezzettino e dopodiché vi dirò se per le mie impurità può andar bene questo tipo di prodotto più che altro perché ho notato che le ultime domeniche anche se non si vede specialmente sotto questa luce siamo qui fuori abbiamo un pezzettino di giardino e ci mettiamo fuori a prendere il sole quindi la pelle prendendo il sole nei giorni successivi mi risulta più grassa quindi volevo un qualcosa che mi aiutasse ad asciugarla un po insieme poi alla mia solita diciamo routine quotidiana per la cura della pelle quindi niente lasciamo in posa 15 20 minuti dopodiché dovrebbe togliersi come una pellicola aspettiamo e ci vediamo tra pochissimo e rieccoci qua allora l'ho lasciata in posa 20 25 minuti perché col caldo se si suda non si asciuga quindi non potete farlo se non avete il climatizzatore d'estate e niente ho iniziato con le unghiette diciamo a scollare il primo pezzettino e andiamo a rimuoverlo insieme sembra abbastanza asciutta vi dovrò attrezzare meglio ragazze sono veramente le prime armi e oggi sono andata a comprare un treppiedi per mettere sul telefono ma mancava un pezzo quindi domani lo devo portare indietro viene via abbastanza fa un po un effetto ceretta eh però è normale perché usando anche i cerottini quelli della nivea non so se mi è mai capitato io di tanto in tanto li uso quei cerottini per la impurità mi trovo abbastanza bene più o meno l'effetto è lo stesso oddio si la pelle più morbida però non possiamo urlare al miracolo di certo adesso facciamo un po di smorfie ecco facendo un po di smorfie si scolla e io direi che vado avanti a rimuoverla da sola senza tediarvi qua con la maschera dopo di che ci rivediamo quando è conclusa l'operazione per una sorta di feedback guardate qua che figata questa è una figata però ragazze non fa male completamente non riesco stavo guardando se si 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 vedono le impurità un pochino mette a fuoco comunque poco 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 niente di eclatante odio è insostituibile alla pulizia del viso anche se ho visto che adesso vengono quelle macchinette per aspirare i punti neri che usano anche nei centri estetici e non vi escludo che la proveremo anche quella perché io sono veramente curiosa sono veramente una donna qualunque ma molto curiosa va bene io vado avanti a rimuovere la maschera però posso già darvi le mie recensioni ok allora sicuramente non è un prodotto diciamo pessimo si toglie abbastanza bene però i punti neri onestamente dove erano sono rimasti quindi io si la farò magari occasionalmente l'unica cosa che noto di queste di queste maschere è che dopo comunque i punti neri sono ammorbiditi dopo quando finite di farvi la maschera quindi quello che vi consiglio è una spremitura post maschera perché escono con più facilità e vi do un'altra chicca ho scoperto facendomi la ceretta ai vaffetti che se faccio la ceretta in zone che magari avete la pelle molto grazia avete dei piccoli puntini neri tipo in questa zona qui oppure sotto il naso oppure sul naso la ceretta li fa uscire può uscire punti neri o i puntini bianchi comunque il sebo ed è fantastico io ogni tanto lo faccio magari non è giusto però la donna qualunque ho scoperto questo quindi voglio condividerlo con voi la ceretta funziona anche sui punti neri bene ragazze io adesso finisco il video spero che vi sia piaciuto la maschera della cleanians è tutto sommato una buona maschera dopo l'utilizzo di questa maschera consigliano comunque di idratare la pelle quindi mettete una crema idratante anche se io già sono tutta sudata perché fa caldissimo e quindi applicate la vostra crema idratante il contorno occhi e poi buonanotte io vi dico buonanotte perché è tarda sera non so quando caricherò il video quando avrò tempo e quindi niente vi lascio spero che il video vi sia piaciuto vi invito a mettere un like e iscrivervi al canale e a breve nuovi video un bacio a tutti buonanotte dalla donna qualunque